ciao big brother mi chiamo riccardo cuore del lione e ho già mandato tre video a te a voi ma ho dimenticato a spiegare delle details per quale motivo voglio entrare il grande fratello 2012 allora qui adesso faccio un altro così gli spiego un po le cose che faccio io e poi faccio il mio nome è Ricky Wilson, sono molto inglese, sono un natural speaking cockney e qui sono i miei ragazzi sono i miei ragazzi, sono molto creativi, sono molto energetico, sono un 43 anni ma ho la spirito di 20 anni, ma la visione di un 43 anni, ma la visione di un 40 anni, ma la visione di un 70 anni sono intelligenti, sono l'abbiamo fisica, l'abbiamo quantità, l'abbiamo NLP, l'abbiamo hypnose, sono molto creativi, sono i giochi a 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 giochi più persone sono anche più persone che non ho più, ma tutti i loro hanno a giochi a giochi I'm not a violent person, but pushed into a corner, I will fight my corner. I really think I'd be a good housemate. I can, you know, I'm a character. I won't be one of those that sit in the background. I'm very proactive with everything. I'll be good on the tasks, very good on the tasks. Because I'm good. I can turn my hand to all things. I'm six foot tall. I'm athletically built. Like I say, I can roll with the 20-year-olds, I can roll with the 30-year-olds. I'm an all-rounder. I've got a lot to say. I've got a lot of opinions. Basically, that's it, big brother. E' l'ultima cosa che ti posso dire. Grazie mille e spero che lo vediamo tra poco. Grazie. Thank you very much and I will talk to you soon. Hopefully. Bye-bye for now.